Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. È arrivata finalmente la terza vittoria stagionale da Tonazzo Padova che domenica ha battuto al Palafabris l'Alto Tevre di Città di Castello. Di questo e di molto altro con ospiti davvero straordinari parleremo tra poco. Sigla! Eccola, è arrivata finalmente la terza vittoria stagionale della Tonazzo regala il primo successo per 3-0 della stagione. Una vittoria sofferta, meritata, fortemente voluta dalla squadra di Valerio Baldovin che ha avuto la grande capacità questa volta di non sbagliare i palloni decisivi. Ovvero di evitare quelle indecisioni che sono costate tanti punti in questo campionato. Non solo, ma i bianconeri hanno anche piazzato una rimonta da incorniciare nel terzo set recuperato addirittura da 10-16. Insomma un piccolo capolavoro costruito soprattutto al servizio e il fondamentale che ha fatto più di tutti gli altri la differenza. Ora il vantaggio sulla coda della classifica è di 4 punti. Su quella Milano, sconfitta 3-1 a Macerata, che lunedì prossimo ospiterà la Tonazzo, altro incontro fondamentale. Continua in vetta la classifica la marcia di Trento che è passata come un rullo su Ravenna, sempre più in crisi di gioco e risultati. Crisi di risultati che sta mettendo in ginocchio anche Piacenza, giunta alla sua settima sconfitta consecutiva. Alla copra non succedeva dal 2002. Continua a stupire Verona che vince un'altra maratona, questa volta Latina e rimontando dallo svantaggio iniziale di 0-2 con un quarto set da infarto, chiuso 38-36. Torna a frenare invece Monza che perde in casa con Molfetta con il palleggiatore cubano Il Rezzuelo che mette a segno la bellezza di 10 punti. Un vero e proprio record per un regista. Era l'ultima domenica di carnevale ma il pubblico nei palasporti di tutta Italia ha risposto alla grande. Al Palafabris erano in più di 2.500, sarà anche un campionato a due velocità ma questa Superlega piace davvero a molti. Buonasera, benvenuti a Mania Fuori. L'abbiamo detto nella scheda, finalmente è arrivata questa tanto sospirata terza vittoria della Tonazzo in campionato. È arrivata tra l'altro in maniera direi assolutamente sofferta per quella grande rimonta del terzo set da 16 a 10 ma assolutamente meritata e quindi per questo ancora più bella. Il primo applauso ancora è per la squadra di questa sera, ospite che è il PGS, Legnaro Volley. Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti. Ospiti davvero di eccezione come vi ho detto. Lui, ridendo e scherzando, è il terzo marcatore del campionato di A1, anzi della Superlega e soprattutto il primo italiano. Stefano Giannotti. Ciao Stefano, un applauso. Ciao, grazie. Ti aspettavi di essere terzo e i primi due sono Atanasievic e Starovic. Tanto per dire. Sì. Non proprio due scartine. Due scartine, complimenti, complimenti, ne parleremo dopo. Parliamo sempre di questa grande squadra che è la Pallavolo Padova, è uno dei soci storici, uno delle anime di questa società, è Gianni Burko. Ciao Gianni, benvenuto anche a te e complimenti per quello che continuate a fare ogni settimana per la Pallavolo Padova. Questa sera abbiamo voluto veramente rendere nobile questa trasmissione perché abbiamo il piacere di avere per la prima volta il Presidente del CONI regionale a mani e fuori, Gianfranco Bardelle. Ciao Gianfranco. Quando io ero giovane, lui era un mio mito. Adesso, quelli che sono giovani, è il suo figlio che è diventato il loro mito. Frase un po' complicata per dirvi che abbiamo il grande Liubomir Traviza, papà di Dragan. Ciao Lione. Ciao a tutti. Ma sei più Liubomir o sei più il papà di Dragan ultimamente? Oddio, sempre più papà di Dragan. Ho capito. Liubo che ha giocato, lo voglio ricordare, per i più giovani che sono qui, un bel po' di stagioni qui a Padova, no Liubo? A metà degli anni 80? Sì, a metà dei bellissimi quattro anni, famosa Treppini, però lasciamo passato alle spalle, e cerchiamo di guardare avanti e soprattutto parlare più di giovani. Ti ho visto domenica al Palla Fabris. Che impressione hai avuto della partita e della tornata? Era la prima volta che la vedevi, no? Sì, quest'anno purtroppo da quattro mesi non ero in Italia, allora sono arrivato proprio giorno prima. Era l'occasione di venire, prima volta a vedere al vivo Nova Padova. Mi è piaciuto molto, soprattutto di approccio che ho avuto in questa partita. Non so se era a caso o no, però è stata una bella partita, soprattutto terzo set che era anche per loro e per tutti molto combattuto e sono stati bravi di tirarsi da una difficoltà, ma in generale terzo set sempre un po' di calo di tensioni, varie cose. Ci può essere. Sì, è normale, tra virgolette è normale, è naturale, però uscire fuori da 16-10 sicuramente non è da poco. Non è da poco. Per cui complimenti a tutta la squadra. Bene, vediamo anche se la grafica è pronta, anche i risultati velocemente dell'ultimo turno e poi la classifica in rapida successione, così vediamo quello che è successo in tutti i campi della Superlega domenica scorsa. Eccoli qua i risultati, li vediamo, Macerata che ha vinto 3-1 con Milano, però facendo un po' di fatica, ha fatto fatica anche Modena con Piacenza, ma ha vinto 3-1, più facile invece il successo di Trento su Ravenna per 3-0, bella partita a Monza con il successo di Molfetta per 3-1, grande, grandissima partita, l'abbiamo vista al Palafabris, poi veramente spettacolo a Latina, dove Verona ha vinto 3-2, appunto come dicevamo nella scheda, con il quarto set finito addirittura 38-36. Vediamo anche la classifica che si delinea sempre di più, con Trento in testa a 46, poi Modena che segue a una lunghezza, Macerata a 40, Verona a 35, quarta forza del campionato, chi l'avrebbe detto, Perugia a 33, poi c'è Latina a 31, Molfetta a 27, Ravenna a 25, Piacenza come vedete ha la settima sconfitta di fila, quindi sta scendendo clamorosamente in classifica, quota 19, Monza a 15, Padova e Alto Tevere a 10, Milano a 6. Stefano, partita bella, tra l'altro domenica anche nell'intervista post partita, hai detto che gli avversari forse non avevano capito che tiravi sempre parallela, non ho capito bene cosa hai detto, era così? Il tuo colpo migliore è stato, no domenica? No, se mi lasciano io tiro sempre là, se vedi il buco lì, ma è una partita che avete girato, poteva complicarsi a un certo punto, no? Sì, il terzo set ammetto che si sentiva un po' di puzza, di bruciato, un po' di puzza di un altro set, poi di un quinto, per fortuna siamo riusciti ad imporsi, loro non hanno mollato fino alla fine, sapevamo che sarebbe stata dura, anzi ci aspettavamo sarebbe stata più dura di così, e per fortuna sono arrivati tre punti importanti per darsi una boccata di ossigeno, perché ultimamente è stato un po' dura digerire certe sconfitte, e godiamoci questi tre punti. Questa volta, diversamente da altre occasioni, siete stati molto più cinici nei momenti decisivi, perché in tutti i set non è che li avete vinti proprio di dieci punti, anche il primo è finito da 23 se non ricordo male, ma nei momenti decisivi voi non avete più sbagliato, a differenza di altre volte, hanno sbagliato loro invece questa volta. Purtroppo è una nostra pecca arrivare fino alla fine e poi dire, non so, a contentarsi di quello che è stato fatto prima, bisogna che ci mettiamo in testa che quest'anno non ci regala niente nessuno, non è come l'anno scorso, che arrivi lì e gli altri mollano. Purtroppo facciamo noi la figura ogni tanto di quelli che mollano, anche a Modena. Ho detto, non voglio essere presuntuoso, ma un set magari li lo potevamo portare via. Magari sono ancora più presuntuoso un punticino, quelle sono squadre costruite per soffrire e per vincere, soffrendo anche. Luiubo, come si fa ad allenare questa, a parte che domenica loro sono stati bravi, ma questa debolezza nell'arrivare spesso al 24 pari, oggi ho guardato un po' di statistiche nella Lega, sui vari fondamentali. Padova che è penultima barra terzultima in classifica, però è molto più in alto in tutte le classifiche di muri, di ricezione, di attacchi. Quindi probabilmente è proprio così, è una squadra che gioca meglio di quanto raccoglie. Come si fa ad allenare questa cosa? Questo è purtroppo una malattia che tantissime squadre, non solo loro, fino a 20 giocano benissimo. Dopo i 20 tutto un altro gioco. Purtroppo il pallavolo soprattutto si conta dopo il 20. Tante strategie, tattiche e varie situazioni, anche situazioni di allenamento, si allenano soprattutto da 20 fino al set. Sicuramente anche una squadra, bisogna ammettere che è una squadra giovane, inesperta, da tutte le squadre giovani, anche livelli under 13 e su, c'è tanti alti e bassi, soprattutto quando al finale del set, in momenti importanti, purtroppo loro sbagliano a qualcosina più di altri. Loro naturalmente hanno bisogno... Ci può fare. Ci può stare, sicuramente hanno bisogno di tempo. Se c'è un approccio come hanno avuto, soprattutto in terzo set, ma in generale tutta la partita, sicuramente queste cose succedono meno. E lì c'è anche, come diceva prima, perdi tante partite, si perde fiducia, non è facile immediato di acquistare immediatamente. Ci vuole tempo, ci vuole anche individualità in certe situazioni, ma soprattutto si allena con umiltà e lavorare a sodo, non avere questi timori di paure che bisogna togliere addosso, che non è assolutamente facile. Non è facile. Zanfranco, nonostante tutto, però quest'anno squadra che sta soffrendo, anche se domenica chiaramente hanno vinto, lo si sapeva. Però, andiamo a vedere i dati di pubblico, sono ancora 2.500 e passa, spettatori di media partita, Padova, la Padova sportiva comunque ama la pallavola. Indubbiamente la squadra, poi la Tonazzo, è passata in categoria, e credo, io ho visto tre o quattro partite, ho visto che è cresciuta sempre col tempo, cioè si è resa conto che è una categoria superiore, e che quindi bisogna metterci anche la volontà di voler vincere. Nelle prime partite, magari dopo i primi due set, si vedeva proprio la categoria quasi inferiore, beh, rinuncio, mi piace quello che ha detto già notti, adesso non rinunciano più e vogliono giocare fino all'ultimo la vittoria. E questo porta anche il pubblico, perché... Il pubblico ha capito, però, questo momento, no Gianfranco? Bravissimo, è un pubblico che piace il gioco, che è affezionato alla squadra, che partecipa sempre, nei momenti anche difficili, non è mai mancato l'applauso o l'incoraggiamento, perché sapeva che ci volevano questo periodo di transizione. Padova ha bisogno di questi segnali positivi. Io, come con i Veneto, so che a Verona hanno la possibilità di avere uno stadio più importante, per cui sono stati fatti anche dei campionati del mondo, quindi hanno un pubblico di quelli da... Hanno anche possibilità economiche. Hanno possibilità economiche. E io voglio dire che la Tonazzo, con le poche possibilità, e partendo un po' anche così, non accolta proprio a braccia aperte dalla... Dalla critica. Dalla critica, dalla... Io dico sempre... Stanno facendo, secondo me, stanno facendo dei mezzi miracoli. Stanno facendo... Bravo. Detta così. E io voglio ringraziarli, perché hanno portato il grande sport della pallavolo nella città di Padova e se lo merita. Gianni, state facendo tanti piccoli, barra grandi sacrifici anche a livello societario, no? Perché poi da fuori è tutto bello, tutto facile, ma perché non prendono quello, perché non comprano quell'altro. Però ci vuole coraggio anche a lanciare ragazzi come Stefano, come Fabio, come Fabio Ballasio, come Mattei, gente che in A1, insomma, tutto sommato, era più o meno all'esordio, no? Sì, la scommessa, tra virgolette, è proprio quella, cioè di far crescere dei giovani, dei padovani, perché ne abbiamo diversi, tra cui Stefano, e diciamo di fare il passo secondo la gamba, perché poi spendere i soldi che non si hanno, qualche problemino si ha. Abbiamo già fatto la A1 noi come società, io ero sempre all'interno della società, da quando l'ha presa questa compagine, io ci sono, e abbiamo fatto più fatica poi a sistemare i bilanci. Sì, diciamo che quell'anno poi ha lasciato qualche strascico evidentemente. Ha lasciato degli strascico, sì. Allora ci siamo messi invece su un binario, diciamo così, della correttezza. Facilitati anche dalla Superlega, che non prevede chiaramente retrocessioni. E anche però con la volontà, sì, chiaramente le non retrocessioni sono comode, aiutano. Anche perché se no probabilmente saremmo rimasti in A2 a fare la nostra bella figura, insomma. Ti piace, Liuvo, la politica della Superlega che c'è in Italia, o ti piacerebbe di più tornare indietro e fare come una volta con le retrocessioni in maniera classica? Io sportivamente, senza retrocessioni, non mi piace personalmente. E credo, senza questa competizione sportiva, secondo me, io personalmente non mi piace, ecco, essere molto crudeli, molto semplici. Diciamo che la Lega l'ha fatta per cercare, ecco, no, siccome in mezzo a una crisi economica forte c'era il rischio che ogni anno si perdesse qualche pezzo per strada, no? Perché, quindi probabilmente, credo, sicuramente, questo è stato un po' l'obiettivo. Poi, come sempre, non si può. Però, come giustamente dice, se non facciamo qua, facciamo crescere giovani in A2, che secondo me è una bella approccio e magari fare due squadre meno in Serie A di avere una qualità superiore e un'altra strada. Sicuramente, tornando di prima, su questione di pubblico, questa è una cosa che deve essere un esempio. Io personalmente pensavo che non trovo mezzo voto una partita per ultimo, invece è stata una sorpresa in positivo. Detto da te, ci fa molto piacere. Molto soddisfatto, posso dire anche orgoglioso, vedere un pubblico nel palavolo, per scendere il palavolo o da qualche altra parte, sempre il palavolo, è una cosa che ti fa nei brividi, veramente complimenti. Bene, ci troviamo qua per la prima parte, nella seconda sentiremo anche l'impressione di Mattia Rosso nel post partita con la Tonazzo e inizieremo chiaramente a parlare anche di Legnaro. A tra poco. a due alla prossima. -